allora pollicioni verdi ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video come state tutto bene mi vedete in preda si dice in preda facciamo un'inquadratura un po' migliore eccoci qua oggi in questo video volevo farvi vedere un po' di operazioni di routine che mi tocca purtroppo ahimè fare anche a me nel giardino nel prato di besprato allora facciamo prima il punto della situazione così diamo un'occhiata un po' al giardino diamo un po' un'occhiata a in che stato è il prato e devo dire che tutto sommato sono estremamente contento del risultato che sono riuscito ad ottenere tutte le cose che ovviamente ho fatto nel prato di besprato sono le cose che vi ho fatto vedere nei molti video questo è il risultato oggi 29 di dicembre vedete il prato si presenta in uno stato decisamente positivo è un po' di inquadrare un po' meglio ok è tagliato tenuto tagliato adesso ad un'altezza di circa 7 6 7 centimetri e ancora di un bel colore uniforme probabilmente la prossima settimana dovrò tagliarlo di nuovo non c'è in nessuna zona né un principio di ingiallimento non c'è nessuna sofferenza particolare tranne quella zona alle mie spalle che avete visto che stavo ripulendo ma tra un attimo arriverò a parlarvi di quella zona lì perché vi spiegherò un po' la strategia che porterò avanti nelle prossime settimane perché purtroppo ahimè nelle zone in cui si manifestano dei diradamenti dovuti in quel caso lì alla presenza del glicine al fatto che il glicine abbia buttato giù le foglie lì c'è una presenza costante di ombra non tocca mai il sole solamente in estate c'è una piccola fascia dove prende un po' di luce per cui quella zona lì adesso tra un attimo ve ne verrò a parlare prima di parlare di quella zona lì due parole sul prato facciamo anche un giretto assieme diciamo non c'è un filo di infestante il prato si presenta di una bella colorazione non ci sono ingiallimenti non ho avuto problemi tocchiamo ferro di alcun tipo di malattie di problematicità di quel tipo lì ovviamente ho fatto tutti quanti i trattamenti sia di concimazione potassica sia di nutrizione di tipo organico e sia di induzione alla resistenza diciamo che per ora il prato nonostante che ormai qua il freddo sia arrivato sono già una settimana abbondante due settimane che le temperature si sono abbassate ovviamente siamo solamente all'inizio della stagione fredda e presto per tirare qualsiasi tipo di conclusione però insomma la partenza per ora è tutto quanto bene vedremo come si evolverà nelle prossime settimane la meteorologia e in funzione della meteorologia andremo a vedere se il caso di intervenire di nuovo con qualche operazione con qualche ammendatura con qualche nutrizione per andare a coprire delle eventuali riprese vegetative c'è una cosa che almeno qui da noi inizia un attimino non a preoccuparmi però sto segnando ok perché è da un paio di settimane che non piove vedremo che cosa succederà perché se da adesso fino a Natale non dovesse arrivare pioggia acqua nel prato dovrò per forza di cose andarla ad apportare io guardate è una di quelle piccole cose che pochi vi dicono ma non avete idea di quante volte mi è capitato di vedere dei prati che durante l'inverno le prime settimane di gennaio le ultime settimane di gennaio presentavano degli ingiallimenti diffusi che in realtà dipendevano dal fatto che non era mai piovuto ricordiamoci che per svolgere la fotosintesi corofiliana in qualsiasi stagione dell'anno il prato ha bisogno dell'aria quindi dell'andidride carbonica ha bisogno dell'acqua e ha bisogno della luce e ha bisogno dell'azoto quando uno di questi elementi viene a mancare ecco che la fotosintesi corofiliana può andare in crisi bene adesso volevo solamente dirvi due tre cosette proprio per parlare di quella zona che mi sta dando qualche piccolo problema per parlarne ci spostiamo un po' così ve la inquadro un po' meglio e capite come vedete il sole sta tramontando da quella zona questa parte qui è completamente in ombra oltre che essere in ombra c'è il glicine ok che diciamo l'apparato radicale del glicine crea un certo tipo di competizione ok nel suolo che cosa si sta verificando mi metto un po' più indietro vediamo qua vediamo se qui è un'inquadratura corretta così si vede allora che cosa sto facendo in queste settimane e che cosa farò nelle prossime settimane come avete visto devo tenere per forza di cose sempre pulito il glicine fa ricadere le foglie per un periodo di tempo anche di 3-4 settimane e quindi mi costringe costantemente a soffiarle a toglierle via un'operazione molto importante soprattutto per il fatto che se dovesse arrivare dell'umidità se dovesse arrivare delle piogge può essere un bel problema perché appiccicano le foglie nel terreno e creano una situazione compromettente in quella zona specifica come molti pollicioni hanno magari vicino alla siepe magari vicino al muro si è creato un terreno un po' difficile si verificano dei diradamenti e tra le altre cose ho notato che oltre che esserci dei diradamenti quindi rispetto all'altra zona che in ombra che la vedete vicino alle scale il prato è un po' in difficoltà per l'ombra tende un po' ad assottigliare la tessitura fogliare ma è di un colore bello scuro non credo che si noti perché la telecamera l'obiettivo del telefonino è quello che è invece sotto il glicine c'è una bella differenza le foglie sono molto più fini c'è una presenza di diradamento molto più accentuata ma soprattutto c'è una colorazione più chiara ecco che questo fatto della colorazione più chiara mi ha messo un attimino in difficoltà ieri ho fatto un trattamento specificatamente proprio per quella zona lì per cercare di capire se quello è il problema la mia supposizione è che lì ci sia oltre che un problema di mancanza di luce anche un qualcosa che non va bene a livello del terreno presumo che ci possa essere una compattazione eccessiva del terreno una difficoltà da parte delle radici di andare in approfondimento e probabilmente anche un qualche tipo di deficienza nutritiva lì il terreno è in pendenza e lì il terreno probabilmente la distribuzione del concime non è stata fatta correttamente allora ieri che cosa ho fatto? ho fatto un trattamento solamente in quei 10 metri quadri di prato proprio per vedere se nei prossimi giorni ci sarà una risposta questo primo trattamento che ho fatto serve a capire se le cause dei problemi sono legate diciamo a un metabolismo carente dovuto a una mancanza di equilibratura dei nutrimenti sono andato cioè a fare una concimazione fogliare di tipo ureico utilizzando dei concimi anche con dei microelementi utilizzando dei concimi anche con del ferro utilizzando dei concimi che hanno un alto grado di azoto presente al loro interno ovviamente siamo alla fine dell'autunno le temperature sono basse qui da noi questa notte è abbrinato nei prossimi giorni si andrà sotto zero come ho fatto allora a fare questo tipo di trattamento l'ho fatto più o meno verso mezzogiorno ieri e assieme al prodotto che ho diluito in una quantità d'acqua leggermente inferiore rispetto al classico solitamente si fanno 10 litri di acqua per 100 metri quadri di prato quindi per 10 metri quadri di prato bastava un litro d'acqua io ho fatto un po' di meno di un litro d'acqua assieme al prodotto ci ho aggiunto una bella quantità di agente surfattante l'agente surfattante solitamente viene utilizzato per tutt'altri scopi come dice il termine è un agente surfattante che diminuisce la tensione superficiale dell'acqua serve a fare sì che l'acqua penetri nel suolo più facilmente e ci rimanga per più tempo ma questi agenti surfattanti hanno una caratteristica in più che è quella che è una piccola e leggera funzione adesivante che era proprio quello che mi serviva nel senso che essendo il metabolismo molto ridotto essendo una presenza di umidità molto elevata avevo bisogno che il prodotto che ho dato in quella zona lì rimanesse nella foglia per più tempo possibile e quindi ho utilizzato questo prodotto non pago ho voluto aggiungere un terzo elemento voi sapete che il metodo besprato ti consente fra virgolette di mescolare assieme al massimo tre prodotti per non esagerare troppo ho utilizzato quindi l'agente surfattante l'ho mescolato insieme a un prodotto per la nutrizione fogliare nel caso specifico ho utilizzato l'ELP un prodotto della Botos a cui ho aggiunto anche un ulteriore stimolante della fotosintesi che ho finito in maniera particolare del metabolismo molto molto utile nelle zone in ombra molti di voi l'avranno capito sto parlando delle alghe brune in questo caso ho utilizzato un prodotto sempre della Botos che si chiama Pre-Stress vedremo vedremo se nei prossimi giorni questo darà dei risultati significativi ti avverto subito che non mi aspetto dei grandissimi miglioramenti perché credo che il problema di quella zona lì non sia tanto legato a questi problemi quanto a una difficoltà del terreno il secondo step di lavoro nonostante che siamo in entrata dell'inverno lo farò comunque nelle prossime settimane proprio per cercare di capire se riuscirò a metterci una pezza il mio obiettivo è quello di riuscire a portare quella zona lì in uno stato presentabile alla fine dell'inverno per poter poi andare a fare una risemina all'inizio di primavera utilizzando magari delle sementi un po' più performanti per le zone in ombra nella descrizione di questa diretta troverai un link di approfondimento nel quale sono un po' elencati quelli che sono tutti i controlli da fare in questa stagione piccole cose piccole verifiche ma anche non tanto piccole all'interno dell'articolo ci sono anche indicati i prodotti che io ho utilizzato per quanto riguarda quella zona in ombra mi raccomando non tiriamo adesso i remi in barca probabilmente da adesso fino alla primavera in realtà le cose da fare che si possono fare nel prato non sono tantissime quello che invece devi assolutamente fare è quello di andare a controllare con una certa costanza controllare il prato verificare il prato è un'operazione che ti richiede veramente pochi minuti lo puoi fare una volta alla settimana fare un giretto nel tuo prato adesso io ci ho camminato sopra anche se sconsiglio ecco qua ad esempio c'è una infestante ok c'è un piccolo accenno eccolo qua l'ho strappata in maniera veramente bruttina in realtà quando si vede un infestante bisognerebbe andare a fare un'estirpazione a livello proprio delle radici quindi andare a fare un po' di spazio ed andare a eradicare anche l'apparato radicale in questa maniera avrai la certezza assoluta che questo tipo di problemi vengano risolti definitivamente va bene pollicioni volevo semplicemente farvi vedere un po' le operazioni di routine che io faccio generalmente sono piccole cose tra l'altro in queste giornate soprattutto al tramonto è bellissimo fare due passi in giardino ti dà prendere ti dà è una bella è una bella atmosfera utilizzo questo momento proprio per andare magari a ritoccare alcune cose fare un po' di pulizia andare a controllare le zone d'ombra andare a guardare se in alcune zone si stanno verificando dei focolai di qualcosa dei piccoli ingiallimenti beccarli per tempo per beccare per tempo tutto quello che succede bene con questo è tutto questo voleva essere un po' un video per darti per farti vedere un po' i miei lavori le mie routine ti ricordo domani sera importantissima diretta sul nostro canale youtube questo video si conclude qua e ci vediamo ovviamente come sempre nei prossimi giorni ciao a tutti